Qui nasce il primo gol perché c'è un Mani in area di Mancini al tredicesimo, Lombardo lo punisce con un rigore a favore del Torino e Comi lo trasforma, quattordicesimo minuto, Granata in vantaggio per 1 a 0. Il raddoppio arriva al diciannovesimo, azione Ferri, Beruatto, da questi a Corradini ed è gol.